come la vuoi la maglietta? adesso si vede intanto si dico tu ci si vede adesso va bianca io prendo la vera va bene così ok ok faccio le formazioni si hanno modificato un po' i pupazzi qua va bene allora mandiamo solo il link a massi che lo voleva vedere c'è max grignola dico nome e cognome proprio pieno va bene gran campionato di fifa non è ancora aggiornato il nome giorgio siamo ancora a fifa 20 are sei morto? sei già concentratissimo stai tranquillo stai ok sa che giorgio sta partendo contro beppe siamo in contemporanea si si proprio tipo campionato di serie a proprio pieno boh io sono a posto all'andata mi è andata bene a me si perché l'ho riavviato però adesso adesso funziona adesso si anche lì prima quando la lanci si blocca tutto quella poi dopo che lo fai riavviare parte parte tranquillo e non si blocca più cioè va bene va bene va bene buona partita cazzo di campo è un campo marcio guarda ci sperano chiaramente i tifosi a corsi in gran numero per sostenere la propria squadra giochi in casa tu nel campo americano sembra sintetico guarda guarda quello che fu dal campo il momento giusto per attaccare per uscire dal campo con i tre punti serviranno intensità e cuore certo ma è tanto cervello anche c'è la regola del vantaggio dunque si va avanti ha un'autostrada a disposizione bella hanno subito gol adesso sono costretti a rincorrere non certo lo scenario ideale per loro eh non è ancora finita devono rimboccarsi le mani che ci tassi in avanti ho fatto detto anche fatto fallo ma niente ha fatto bene ha fatto bene è un'impresa complessa eh ma non impossibile ci sono metri a disposizione pallone recuperato puntuale qui il difensore nel recupero ha l'occasione per riaprire il match si ripartirà con un tiro con la battierina ha avventato pianissimo non so mai occhio al pallone in mezzo palla che resta in zona pericolosa si butta in avanti può ricevere una posizione interessante tentativo di chiusura hanno recuperato bene grazie al lavoro deve sfruttare questa occasione pallone che finisce in porta e via pari ne hanno approfittato subito questo nero sta migliorando partita dopo partita prima sapeva solo correre ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito hanno pareggiato dunque 1 a 1 palla giocata sugli esterni bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio azione che sfuma ci sarà una rimessa dal fondo prova a sfruttare le corsie sembrava un'azione interessante come l'ho detto buona l'idea qui palla verticale attenzione Cicerito Hernandez bello passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match vedremo se troveranno spazi nelle ripartezze un solo gol di vantaggio o troppo poco da difendere considerando quanto manca da giocare il punteggio adesso è di 2 a 1 perdono palla c'è curiosità per vedere l'opera LA fra le franchice della MLS più conosciute anche qui in Italia nelle cui fila hanno militato occhio all'imbucata tutto facile qui ah non c'è arrivato quasi quasi Jonathan Dos Santos guadagna metri possono trovare il gol del pari uuuuh in acrobazia due pari mica comunque siamo già al trentesimo siamo al trentesimo già due gol ha provato il numero effetto e ne è uscito un gol come non se ne vedono spesso mamma mia che meraviglia fuori classe colpo che racchiude in sé tutta l'essenza del calcio Hernandez risultato di pari tassi affidano al giro palla per superare la difesa avversaria niente non riesco a fermarlo interrompe l'azione pericolosa Collins è in buona posizione ottima occasione portiere decisivo si è opposto la campione al tentativo dell'attaccante potevano passare in vantaggio se avessero sfruttato meglio in quest'occasione palla verso il centro dell'area attacco che svanisce possibilità di contropiede attenzione una partita difficilissima è troppo forte Hernandez Pavon perdono qui il possesso di palla no ma mica l'ho messo su ma che fastidio di crisi di crisi quanto mi sono censurato bene non si riusciano a non bestemmiare bravo il difensore che ferma tutto e sarà a calcio di palla fallo a caso Dos Santos ci sarà solo un minuto di recupero attenzione a Dos Santos possono passare in vantaggio sicuro il portiere buona la sua uscita eh due parti quel è il gol del 45esimo quello eh infatti non l'ha fatto guarda che non l'ho fatto guarda che non l'ho fatto guarda che non l'ho fatto sempre il primo tempo si è concluso sul risultato di parità e vedremo se nella ripresa una delle due squadre troverà lo spunto vincente lato due volte in vantaggio lui due volte l'ho ripreso ma è durissima Vediamo intanto cosa scrivono D'altra parte come sta andando la partita Di Giorgio Se in contemporanea sta facendo guardare di Beppe Niente Eh no lo so già come va Giorgio contro Beppe Vincerà Giorgio facile facile E' tutto pronto comincia il secondo tempo C'è il lancio sulla fascia Fanno girare il pallone molto bene Conclusione Murata Fondamentale il difensore L'arbitro non interrompe attenzione vantaggio Pavon Jonathan Dos Santos Pallone riconquistano gli avversari Bravo a mettersi sulla traiettoria E' un'altra relazione Jonathan Dos Santos Hernandez Ha esagerato con la forza Palla buona per il portiere Possibilità per la ripartenza Vediamo cosa fa ora Provano a sfruttare bene il campo Capisce tutto il difensore Ma dai come è rimbalzata male Ma che crisi Pallone troppo prevenibile questo Viene chiuso Arbitro ha visto qualcosa E l'arbitro è stragi Cattellino Giallo Giallo Chi era da aspettarselo Ma tu preso da davanti Fallo Nessun dubbio per l'arbitro Ha iniziato la rista Ha iniziato Hernandez Pallone invitante Clistan Sembrava l'occasione giusta Per trovare il vantaggio L'ho vista malissimo L'ho vista malissimo Ottima la lettura del difensore Che ha capito tutto Ha recuperato il pallone La mette sulla corsa del compagno Eh Bello Se fosse entrata Qui veniva giù lo stadio Oh un gol al volo E pur sempre un gol al volo Ma dove cazzo è andato Hernandez Perché adesso c'è questo Clistan E' un giusto tecnico dell'attaccante Conclusione che meritava miglior sorte Azione che sembra interessante E' un giusto interessante Rispinge il primo tiro Mamma mia cosa hai preso Jonathan Dos Santos Possibilità di contramere Attenzione Ottima qui da giocata Chiusura fondamentale Parità assoluta Cercano continuamente Il tiki taka A spazio per andare Nooo Crisi Sì Sto cercando di non bestemmiare Faccio un cambio Porca Via qua c'ho un sacco di ammunitiche Allora Full reach Non mandiamo via Facciamo entrare terrazzino Questo qua Sto proger E' stanco Facciamo entrare Dlammer Questo non ha Sì c'ha il nome vichingo Sto talammer C'è anche la faccia di Giampolo Rodolà Quello lì Se lo ricordi Ci assomiglia tantissimo E' uguale Andiamo Mi sono anche messo in posizione scomoda E' seduto per terra Praticamente Riconquista con le mani Per i Galaxy Hernandez Grappala scavalcare la difesa Palla importante Grande intervento del difensore Che risolve Occhio all'avanzata Occhio all'avanzata Javier Hernandez Ferma tutto il difensore Bravissimo qui Pallone interessante I minuti scorrono inesorabili Non manca molto alla fine Non manca molto alla fine Devono attaccarsi Mamma mia Pesantissimo Un'altra buona Tutti a prenderti Ale Chiusa 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 Contrasto eccezionale C'è bene la traiettoria qui L'arbi Non mi fa mia azione Bella Bella Fai le foto C'è l'ambulanza sotto casa Le c'è fortissima Inizia a serpeggiare nell'ambiente Ma chissà Dovrà essere bravo il mister A questo punto A lavorare sulle teste Dei propri giocatori Mi deve consolare E' arrivato qua setta A consolarmi Dalle mazzate Che mi hai dato Ale No poi L'hai sistemata Un sacco bene Perché In difesa Sì Eh sì No lo so Prima è in difesa Il problema Adesso È difeso bene I buchi Allora Le foto Le fai tu Le sto facendo io Faccio io? Ok Ok Sì Sei gol Anche questa Comunque si segna tantissimo Sofì Penso che C'ha la media Se con la partita Ok Ok Di in Io Sì Sì